La rassegna cinematografica di Liberamente è un appuntamento ormai integrato nella città di Fano e nella provincia di Pesaro Urbino. Questa di quest'anno è un appuntamento che si ripete ogni due anni. Quest'anno è giunta la sesta edizione e si veste di un nuovo abito, un taglio decisamente più sperimentale. La novità è che è affidato per la seconda volta a noi dell'Associazione Culturale Lettra una piena autonomia intellettuale nella gestione organizzativa dell'evento e pertanto abbiamo deciso con Liberamente di non soffermarci sul tema della salute mentale ma di aprirci anche a nuovi argomenti. Parleremo di pregiudizio etnico, di genere, pregiudizio sessuale, pregiudizio legato al mondo della disabilità e pregiudizio del mondo carcerario. L'intera rassegna partirà il 24 novembre, lunedì 24 novembre alle ore 21, proseguirà fino al 28 novembre. Ogni giorno avrà un suo orario, ogni giorno sarà arricchito da un tema particolare e ad esempio lunedì sarà dedicato al tema del pregiudizio etnico e avremo come relatore il coordinatore di emergency. Martedì invece è la giornata che sarà dedicata, coincide con il 25 novembre che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con la quale abbiamo costruito con Laura Mungerli, presidente dell'associazione culturale Center Stage di Pesaro una collaborazione con la casa circondariale di Pesaro, con le ospiti della casa circondariale costruendo un flash mob One Billion Rising, un flash mob dalla portata nazionale e mondiale. Il primo appuntamento sarà alle 20.15 sotto il loggiato del teatro della Fortuna di Fano per poi proseguire all'interno della Sala Verdi alle 21 con il pregiudizio di genere quindi con un film dedicato alla violenza sulle donne. Sì, è un ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti quindi vi aspettiamo lunedì 24 novembre alle ore 21 presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano. Siamo entrati in contatto e in collaborazione appunto con Liberamente ed Electra io ho lavorato direttamente praticamente con le detenute del carcere abbiamo realizzato questa coreografia che presenteremo durante la rassegna e alla quale parteciperanno anche altre ragazze, altre donne, bambine della mia associazione in comunione appunto a questo progetto. L'idea è di sensibilizzare anche attraverso l'arte noi riteniamo che la musica, che la danza, che l'arte in genere sia un canale primario proprio di comunicazione e di vibrazioni quindi riteniamo che sia indispensabile sensibilizzare anche sotto questo profilo.